La posizione è solo tre punti 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 Per Rudy Moroni che anche lui sta interpretando al meglio il tracciato Con il numero 44 troviamo Danny Filipper, il pilota di Sebino, c'è Micheluz Lui può sportivare un fiamme oro a Milano, la sua Usquarna, esperto pilota Anche lui sta affrontando al meglio il tracciato Anche lui sta affrontando a Milano Anche lui sta affrontando a Milano Anche lui sta affrontando a Milano Grazie a tutti. 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 Adesso... a tutti.